Ieri dimissioni da parte del comandante della Polizia Municipale, che cosa significa e soprattutto questa avvertenza viene ricomposta? Beh, francamente prendiamo atto di questa decisione assunta dal comandante. Stavamo nel pieno delle attività sulla scorta di una decisione che avevamo condivisa e assunto per dare al comandante, all'amministrazione, l'opportunità di concludere la vicenda legata alle problematiche sollevate dal corpo. Un iter che ci sembrava utile per garantire al comandante di poter svolgere l'attività di tipo ordinario e in questo periodo tutti voi sapete quali sono gli impegni che bisogna assumere e nel contempo avere l'opportunità con un contributo di poter governare anche l'articolata vicenda con il corpo dei vigili urbani. Beh, prendiamo oggi atto di questa decisione del comandante e noi continueremo chiaramente a portare avanti il programma e credo che ci siano tutte le condizioni per raggiungere un accordo che possa garantire prima di tutto l'interesse della città alla quale dobbiamo garantire i servizi e tutto quello che è necessario per governare anche l'evento in particolar modo di riuscita artista per le problematiche che determina. Verrà sostituita la Bello Buono? Beh, io credo che la norma prevede che lei ha dato un preavviso per un mese, quindi abbiamo un mese per poi valutare nel merito la decisione assunta. Proverete in qualche modo a farla desistere da questa decisione o si tratta di una scelta irrevocabile? Beh, questo dipende chiaramente dalla volontà del comandante perché il contratto le consente di poter assumere questo tipo di decisione e quindi rispettiamo la volontà che fin qui è stata espressa.